Bernard Gobmalier, è vero? È vero, è vero. Benvenuto a Griglia di Partenza, benvenuto a Griglia di Partenza. Prima di tutto vorrei chiederti se puoi raccontarci brevemente cosa hai fatto nel passato. Beh, da un punto professionale, studiato Ingegneria Meccanica a Monaco di Baviera. Ho studiato Ingegneria Meccanica a Monaco di Baviera. Finita l'università ho subito iniziato a lavorare come ingegnere motoristico alla BMW Motorsport facendo vari tipi di test sia sulle auto da produzione sia su quelle da corsa. Poi per quattro anni ho lavorato a Detroit per la Porsche. Quindi sono tornato nuovamente alla BMW Motorsport iniziando poi il progetto dell'attività racing negli Stati Uniti. Sono stato due anni a New York per poi tornare alla BMW Motorsport in Germania dove ho lavorato con incarichi differenti nello sviluppo delle auto. Nel 2009 sono passato la BMW Moto che sono sempre stato il mio sogno e la mia passione tanto che, quando posso, mi piace guidare una moto. Ho fatto parte degli ingegneri che si sono occupati dello sviluppo del telaio della 1000RR e nel 2010 ho iniziato a occuparmi del progetto SBK dove sono stato fino alla fine del 2012 quando sono stato chiamato dalla Ducati. Adesso sono veramente orgoglioso di far parte di questa famiglia. Cosa pensa un tedesco della Ducati? Per noi italiani è qualcosa di grande, è un mito. Per me le Ducati sono sempre state tra le moto più belle, eccitanti ed emozionanti. Era così anche quando ho lavorato nelle competizioni. Ducati è sempre stato un marchio altamente tecnologico con un fascino incredibile, con tanti tifosi legati a questo marchio. Bisogna essere orgogliosi di lavorare per una fabbrica così. Le corse fanno parte del DNA della Ducati e c'è un grande legame fra pista e moto da strada. Adesso tu hai una grande sfida con la Ducati corse in MotoGP. Pensi che è la sfida più difficile che dovrai fare? È possibile. Ma è buono. È buono. Sì, è probabilmente la mia sfida più difficile, ma a me piacciono le sfide e questa è una sfida davvero impegnativa. Ma l'aspetto positivo è che non sono solo, ma in azienda ci sono tante persone valide tanti ingegneri di valore e ha un grande supporto dall'intera Ducati e naturalmente dai tifosi. Tu pensi veramente che sia possibile battere Honda e Yamaha? Naturalmente. Dobbiamo riuscire a battere Honda e Yamaha. Questo è il nostro obiettivo, anche se, onestamente, so che sarà molto, molto difficile. Loro hanno una grande esperienza, hanno bravi piloti, hanno un pacchetto vincente e noi dobbiamo rincorrere. Non si può nascondere che ci sia una differenza tecnica importante, ma credo anche che sia possibile ridurre il gap. I giapponesi hanno ingegneri validi, ma li abbiamo anche noi e tutti siamo molto motivati. quanti tempi hai bisogno? Quest'anno il primo obiettivo è ridurre il gap e raggiungere le stesse prestazioni sul giro dei nostri rivali, mentre per il 2014 l'obiettivo è combattere ad armi pari con loro. e il nostro obiettivo è di davvero combattere con questi ragazzi. grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.